yo bella a tutti ragazzi volete sapere il mio segreto per streamare e giocare ogni giorno senza perdere mai la concentrazione level up la bevanda creata dai gamer per i gamer un energy drink in polvere che si scioglie in mezzo litro d'acqua e che darà vita ad un gusto incredibile il prezzo meno di un euro per porzione eh sì ragazzi in questa confezione ci sono 20 litri di energy drink e la volete sapere un'altra cosa sono solo 4 grammi di zucchero per mezzo litro d'acqua contro i 50 grammi dei principali energy drink level up è disponibile in tantissimi gusti il mio preferito è quello che state vedendo il gusto galaxy ma ce ne sono tanti altri li trovate anche nello store online e con il mio codice xyuderone avrete uno sconto del 5 per cento andate sul sito di level up e scegliete la vostra bevanda desiderata ce ne sono tantissime come potete vedere io rimango sulla galaxy una delle mie preferite aggiungi al carrello si aprirà una finestra sulla destra si va direttamente alla cassa ordina adesso in sicurezza e una volta che avete cliccato potete trovare la casella codice sconto inserite xyuderone cliccate il tasto applica ed ecco qui lo sconto viene applicato ma andiamo a vedere come si prepara basta mezzo litro d'acqua un misurino di prodotto lo andiamo a versare shake bam e il prodotto è pronto per essere bevuto mamma mia che buono ragazzi level up la bevanda per i gamer fatta dai gamer e 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 ma quasi quasi me lo faccio anch'io così ce ne andiamo fuori io non ci posso no aspetta no però dai cristo però dai cristo mi stavo fatto no vabbè dai io gli ho chiuso la jump è qua dentro Cristo no figa sono andato al contrario no raga no raga no raga no raga no raga ok ci sono ci sono ci sono como ma a me questo non sembra giusto a me questo non sembra giusto che io joseph gesù ha fatto headshot snipe headshot vaffanculo assortamma allora gesù ha fatto headshot snipe in macchina ok al team di saevid farò ben capito che cosa gli abbia fatto headshot snipe si è incastrata la mia madre dove è oh cazzo ma come faccio a ragionare bravo Tune non capisco un cazzo noi lasciamo andare ehi tire wow asuka no come suca ma ha detto suca Tuz asuka ragazzi ma ma l'avete sentito ma l'avete sentito Tuz ma l'avete sentito Tuz saluto Giorgi ciao Giorgi ciao Giorgi che corre felice in un prato dove le vacche hanno cagato inciampa in un filo d'erba e si ritrova la faccia piena di poteva seguirlo poteva seguirlo frimoc seconda 50 per lui piena non si chiude bravissimo invece a raffresciare le build 122 è arrivato è arrivato 100 craccato questo è adesso si incazza ma ok a posso a posso 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 figara ovvio che lì si incazzava spaccava tutto devo vedere una cosa prego datemi un secondo vi prego vi prego datemi un secondo devo vederlo devo vederlo devo vederlo aspetta un attimo un momento 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 aspetta abbiamo signorinovski indiana grande è arrivata così addirittura non mi sembrava così alto non mi sembrava così altro non questo com'è che si chiama questa la tecnica che c***o ne so aspetti questi si chiama ho messo cose a caso e ho cercato di depistare la gente questo è costruisco a c***o mi infratto come un pazzo non ci posso credere mai non ci posso credere mai puttanazza eva puttanazza troia taradan taradan shake 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 scusate 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 e lo va a portare a casa finalmente la prima corona let's go questo qui è jamal e jamal ama fare tre cose nella vita giocare a golf lucidare le palle e stare con la sua famiglia due di queste tre vanno bene ce n'è una che non non sappiamo rica tra quattro no 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 vai 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 Grazie per la visione!